Salve, sono Sisti Riccardo, responsabile del villaggio di partenza, villaggio hospitality di partenza per la Secure Event, per il secondo anno consecutivo. Noi al mattino arriviamo e posiziono i miei uomini, facciamo aperture perché ogni mattina, a differenza dall'arrivo, la partenza, il villaggio è molto difficoltoso, ci sono entrate nuove, però riusciamo tutte le mattine in collaborazione con RCS e cerchiamo di fare del nostro meglio ogni giorno. Siamo in 16 al giorno e tre che fanno il notturno, che controllano il villaggio e gli hospitality dove verrà fatta questa manifestazione del Giro d'Italia. E al giorno siamo in 16 dove ci sono tre ragazze ai pullman, quattro al villaggio commerciale e il resto rimangono qua con me. Poglio firma, hospitality, beggiamo con dei palmari per gli accessi, chi può accedere, chi non può accedere e altro. Però è tutto qua, è un lavoro un pochino di attenzione, però ci si diverte anche in questi frangenti. Siamo tutti giovani, meno io che sono il più vecchio, però dai, sto tirando la barca per tutti. Vi ringrazio e speriamo di esserci anche il prossimo anno. Grazie. Grazie.